Io vorrei dire grazie al Movimento 5 Stelle, grazie per tutto quello che ha fatto per me. Sono anche convinto di aver ricambiato, dando il massimo per il Movimento in tutti questi anni. Sono stati anni intensi, ricchi di emozioni, di gioia, successi, ma anche di grandi sofferenze. E quella di oggi è una scelta sofferta che mai avrei immaginato di dover fare. E' difficile dirlo, ma oggi io e tanti altri colleghi e amici qui presenti lasciamo il Movimento 5 Stelle.